Ben trovati, il 14 dicembre si decideranno le sorti del Paese, ma principalmente le sorti del governo Berlusconi, ci sarà un governo bis, ci sarà un ribaltone, ma per il bis non è d'accordo Berlusconi, per il ribaltone non lo è Gianfranco Fini e per il governo tecnico non lo sono né l'uno né l'altro e forse neanche Casini, insomma realmente non si comprende dove si andrà a finire, secondo me o ci sarà la fiducia per Berlusconi o Napolitano scioglierà le camere, ma questo a margine di una sfiducia al governo Berlusconi e che sfiducia volete? Se Massimo Calearo, che è un deputato eletto nelle liste del PD, poi perché voluto da Walter Veltroni, perché è un imprenditore ricco del nord-est, poi ha lasciato Calearo il Partito Democratico e si è avvicinato all'organizzazione rutelliana, Lapi, poi ha lasciato anche questa e ora è iscritto come altri parlamentari al gruppo misto. Vi dicevo, se Marco Calearo afferma ho ricevuto decine di telefonate da parlamentari del PD che mi invocavano, in quanto io deputato del gruppo misto, di votare la fiducia a Berlusconi, perché è inutile sciogliere le camere ora, è inutile rovesciare Berlusconi dal posto in cui ci sta, perché altrimenti si andrebbe realmente ad elezioni anticipate e noi ormai abbiamo da pagare dei mutui, abbiamo da affrontare delle spese, degli impegni presi a margine della nostra elezione. Avete capito bene, Calearo non è un berlusconiano, Calearo non è stato eletto nel PDL, Calearo è stato eletto nel Partito Democratico, ora è nel gruppo misto, è opposizione a Berlusconi e riceve le telefonate dei suoi ex amici di partito, alcuni del Partito Democratico, lo ha dichiarato ieri al quotidiano e il riformista che gli chiedono, tu che puoi, vota per Berlusconi, così non andiamo a casa. Avete compreso che tutto ha una presa in giro, che si fanno le battaglie per errori, certamente anche di Berlusconi, ma come si dice volgarmente, si predica bene e si razzola male. E questi parlamentari, non solo nel PD, anche nel PDL, ma è scontato che il PDL non voglia andare ad elezioni anticipate, ma anche nel terzo polo, questi parlamentari e specie quelli appena eletti, non hanno alcuna intenzione di lasciare il loro posto e questa è la verità, ecco perché secondo me ci saranno quelli un po' più liberi come Calearo che faranno a loro stessi la cortesia e ai loro amici magari di votare, magari di votare per il governo Berlusconi e ci saranno altri che presumibilmente potranno ammalarsi quel giorno, per cui con una presenza minore di parlamentari scenderebbe anche il quorum e i voti necessari al governo Berlusconi per rimanere in sella. Certo è un'arma a doppio taglio per il futuro di credibilità anche del PD e delle opposizioni in genere, però di fatto è questo ciò che avviene nel nostro paese, così come è vergognoso che si taglino dei soldi per i cittadini per andare a pagare le liquidazioni e le pensioni degli ex consigliere regionali e non è soltanto colpa per esempio in Puglia del centro-sinistra, ma di tutto l'attuale consiglio regionale, però le anomalie di questo paese sono che il PD vuole buttare a mare Berlusconi e Berlusconi invece riceverà i voti e presumibilmente potrebbe rimanere ancora Presidente del Consiglio, che vendola, come dire, tagli i posti letto e chiuda degli ospedali in Puglia, ma sia nella regione Lazio che nella regione Calabria vada a fare i comizi contro la chiusura degli ospedali e la riduzione dei posti letto. A domani.